Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, farò un breve video, a breve, ad ottobre farò appunto un anno della mitica Nikon Z8 mirrorless e mi avete chiesto in tanti di fare un video inerente a questa cosa, io ci sto seriamente pensando e penso che appunto farò il tutto a tempo dovuto. Sicuramente il Nikon Z8, eccola qua, la prendo, è una macchina molto 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 importante, è una macchina professionale, in questo caso su 85 F1.8 è una macchina che dà tante soddisfazioni a livello fotografico, è una macchina che può fare veramente tante, può fare veramente la differenza in fotografia. Io la uso prevalentemente in ambito ritratistico, in ambito sportivo e soprattutto la sto usando ultimamente, visti i vari problemi che ci sono stati, come ho già spiegato anche qui sul canale, in ambito di urban street e paesaggistico. Sicuramente è una macchina che si adatta a tutti, con i suoi 45 milioni di pixel, è una macchina che può permettere veramente di fare tanto ed è una macchina che fa veramente la differenza. Ovviamente non è la macchina che fa il fotografo, ma è il fotografo che deve sapere usare la macchina, questo è fondamentale e basilare. Però comunque vedo che è veramente una macchina di ottima qualità, di capacità e che può dare tante ampie soddisfazioni, però ovviamente bisogna abbinarlo nel giusto modo, con la giusta tecnica, la giusta capacità e mi permette di aggiungere la giusta esperienza. Farò un video più dettagliato o più avanti sulla Z8, sull'uso della Z8, cercherò di fare questo video spiegando molto la concettualità di fotografia e come si comporta in certi determinati contesti, in certe determinate situazioni. E comunque aspettiamo, aspettiamo un attimo, poi faremo questo video, mi avete chiesto anche di pubblicare come si pulisce il sensore, io al momento, anche se è incredibile, non l'ho ancora pulito perché avendo la tendina a salva schermo, che poi salva sensore, fondamentalmente è ancora pulitissimo il tutto e questa è una cosa molto molto positiva, questa tendina su una macchina mirrorless. Poi mi avete chiesto in tanti cosa ne penso della fotografia naturalistica, un po' la sto facendo, molto meno di prima, anche perché la faccio con l'altra macchina, la mitica Z8, Z6 scusate, la vedete, usando Z8 l'uso peraltro questa Z6 che è ancora chiusa e poi uso il cannone, cioè questo 200-500 che tengo qui in questo design specifico apposito. E niente, questo è un pochino tutta la storia, vediamo un attimino tutto a tempo debito, come si metterà, comunque avete richiesto questo video in 14 e sicuramente tra un mesetto penso di farlo, forse anche prima, valuteremo il tutto. Se ci sono altre domande ovviamente fatele, ponetele pure, iscrivetevi qui al canale, mettete like sul video se non vi è piaciuto, commentate e cercate di dibattere anche in negativo su una cosa fotografica e poi ne parliamo, facciamo diventare un dibattito e non una critica tanto per essere campata per aria, insomma la comunicazione è basica, cerco sempre di fare una buona comunicazione su fatti e cose reali e mie esperienze e poi da lì nasce il tutto e vediamo il tutto. Con questo vi saluto, un saluto, buona giornata e al prossimo video. Ciao a tutti, buona luce.